salve ragazzi, allora dato che in questi giorni c'è stato uno scandalo che si chiama su eisleaks o su eisleaks, io penso che si dica su eisleaks, è uno scandalo che praticamente riguarda una banca svizzera, diciamo che c'è stata un'evasione fiscale di 741 milioni di euro, che però la giustizia italiana non potrà mai istituirne un processo per evasione fiscale, perché c'è una lista che si chiama lista falciani, che praticamente è stata sottratta illegalmente, quindi non può essere utilizzata come prova e quindi non può essere utilizzata come prova per istruire un processo penale, perché in un processo penale ci vuole un arrocatore internazionale, perché deve andare in Svizzera, prendere le documentazioni, tornare in Italia eccetera eccetera, perché dico questo? Perché è quello che ci voleva per Calciopoli, che non è stato fatto e siamo d'accordo, ma io vorrei aprire una sintesi sul calcio scommesse, sì, voglio aprire una sintesi sul calcio scommesse perché mi sembra una cosa molto molto pertinente. Allora, il calcio scommesse dove Doni, Signori e un altro che non mi ricordo chi sia, sono indagati da associazione delinquere, invece Antonio Conte è indagato solo per frodo sportiva, Buonucci è stato assolto in primo grado, Pepe è stato mi sembra condannato per una messa a denuncia, Pepe in primo grado, mi sembra di sì. Comunque, la cosa che lascia molto desiderare è che voi interessi milanisti, romanisti, laziali, fiorentini, questo non ne parlate, o tifosi dell'Atalanta, o tifosi dell'Atalanta soprattutto, è che l'Atalanta fa giocare un giocatore che si chiama Masiello, che sappiamo tutti chi è Masiello, era una persona che aveva preso 50.000 euro, o forse anche di più, aveva preso dei soldi, molti soldi, per fare un autogol, che io mi ricordo l'autogol in che partita era, era il Lecce Bari, dove Jeddah, il giocatore del Lecce ai tempi, fa un tiro al volo, che sta andando fuori, e praticamente Masiello, incaricato, incaricato, ovviamente prese dei soldi per far perdere la partita al Bari, e fece un autogol, clamoroso, dove la palla si vedeva nettamente che stava andando fuori, e lui la buttò nella sua porta, però sinceramente non sembrava una cosa volontaria, sembrava proprio che aveva cercato di buttarla via, era scivolato e la palla era andata dentro, invece Masiello è stato condannato, ha pagato il suo debito con la giustizia, però io sono molto sincero, non mi piace che il calcio rimetta a giocare, faccia giocare queste persone, perché oggi, anzi ieri, Moji l'ha detto chiaramente, qui ci sono persone che sono state condannate dal processo penale per aver truccato le partite, io, Giraud e gli altri non siamo mai stati condannati per aver alterato una partita, però siamo stati radiati dalla giustizia sportiva, in effetti questo è molto strano, ma non lo dico da tifoso giuventino, lo dico da tifoso del calcio, da tifoso del calcio dico, com'è possibile che uno come Masiello, dopo le partite che ha combinato, perché ha combinato delle partite, ha alterato delle partite, sono alla base, ci sono le prove, c'è ricordate anche Mauri, indagato per l'associazione delinquere, cioè queste persone, queste persone ancora sono nel calcio, cioè Mauri ancora nel calcio, gioca con la Lazio, devo spezzare una lancia, a mio parere a favore di Conte, perché indipendentemente che Conte era l'allenatore della Juventus, però, allora, si sa che Conte non era uno scommettitore e non scommetteva le partite, si sa, si sa che quelle due partite erano a campionato praticamente concluso, ed è molto strano che tu vai a pilotare delle partite a campionato concluso, molto strano, io credo che Conte sia innocente, credo, però la giustizia deve verificarlo, come secondo me, come sono convinto, a mio parere, che Doni sia colpevole. Il mio parere è che, diciamo che la condanna di Conte sul calcio scommesso è stata perché l'hanno ritenuto Caraobbio testimone attendibile, la giustizia sportiva l'ha ritenuta attendibile, però si sa che Caraobbio la voleva molto con Conte per una serie di cose, eccetera, eccetera, non sto a spiegarvele, però Caraobbio avrebbe avuto un'intenzione, aveva intenzione, secondo tante persone, e anche secondo me, di mettere in cattiva luce Conte, perché bisogna essere chiari. Se non si parlava del fenomeno calcio si potevano fare le indagini tranquillamente, senza nominare il calcio, invece Manganelli, capo della polizia, che purtroppo è morto, e io, mi dispiace, perché le persone delle forze dell'ordine, io le rispetto tutte e sono con loro, però secondo me aveva fatto un errore Manganelli a dire una cosa del genere, a dire, sì, c'entra il calcio, avete dei nomi importanti, è un problema questo, perché destabilizza l'ambiente polizia, destabilizza l'ambiente delle indagini, quando le indagini le hai finite, devi dirlo, non mentre le stai facendo, perché ancora loro non avevano completamente concluso, sì, diciamo sì, avevano concluso le indagini, ma potevano avere un certo tatto nel dirlo, invece non l'hanno avuto, ed è scatenato il putiferio, basta che è venuto fuori il nome di Conte, eccetera, eccetera, ma in tutto questo, alla fine, no? Nel calcio, nel calcio ormai, io sto vedendo che c'è un obiettivo, c'è un obiettivo bello e buono, quello di affossare una squadra, quella squadra si chiama Juve, dopo a Tiki Taka, canale Italia 1, ieri sera, Graziano Cesari, un grande arbitro che io stimo, dice ma perché dite che c'è sempre questo complotto Juve? Perché, allora, vedete, come si fa a dire che c'è un complotto Juve? Il complotto Juve si vede perché è evidente che c'è questo complotto Juve, non si potrebbe non vedere, perché il complotto c'è, si vede, perché se non ci fosse un complotto Juve, il signor Galliani non avrebbe fatto quella polemica per quel fuorigioco inesistente, per le linee parallele e non parallele, quella è una cosa che, inverosimile, io non avrei mai mai pensato che si discutesse delle linee su un gol assolutamente regolare, non mi aspettavo che succedesse un putiferio del genere, ma perché loro vogliono riscatenare il sentimento popolare che vuole che la Juventus perde a tutti i costi. Quando Cannavaro era tornato alla Juventus, mi sembra, non mi ricordo se era prima di Calciopoli o dopo Calciopoli, mi sembra dopo Calciopoli, Cannavaro si è sentito male, no? E allora gli avevano dato, il dottore, per evitare uno shock anafilattico, gli aveva dato un farmaco, no? Che conteneva cortisone. La Juve ha giocato la partita il giorno dopo e ha vinto 3-0, questo era successo uno o due giorni prima della partita. Gli hanno fatto un test antidoping e ovviamente Cannavaro, la Juventus e anche colui che somministra i farmaci, era quello della Nazionale, aveva mandato questa cosa alla veder calcio. Per evitare questo shock anafilattico gli avevano dovuto somministrare questa medicinale che contiene cortisone, quindi è normale se fate i controlli antidoping adesso, è normale che con il cortisone vi viene positivo, il controllo antidoping risulterà positivo, infatti è successo quello. Ma non è che è successo il controllo antidoping e poi, vabbè, ha preso il cortisone. No! No! Cannavaro ha rischiato di essere squalificato per questa cosa, cioè questo non è ammissibile, questo non è ammissibile, perché il cortisone non è una sostanza dopante, non è una sostanza dopante, però è normale che su un controllo antidoping, se tu ovviamente hai, prendi un medicinale che è il cortisone, perché alla fine sono antidepressivi, agli hanno dato anche degli antidepressivi per evitare questo shock, è normale che se tu prendi antidepressivi, cortisone, queste cose, è normale che un controllo antidoping risulti positivo, è normalissimo. Il cortisone ti fa risultare positivo, è normale. E cannavaro ha riscatto di squalificare, poi non è stato squalificato, però vedete ragazzi, io lo sto vedendo, il processo del doping che non ha dimostrato niente, i magistrati hanno dimostrato in tutti i modi che questa creatina, 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 creatina fosse una sostanza illegale che non è illegale, perché fino a 6 grammi i genitori di miei amici la prendono tranquillamente, se tu la prendi fino a 6 grammi, un integratore come Polase, come Eterogermina, come Supradin, come tutti gli integratori che ci sono. E quindi in questo processo è stata una sconfitta per la Juventus, perché non ci doveva essere questa prescrizione, si doveva rifare l'appello. Se si rifaceva l'appello, secondo me, non secondo me, andava a finire come doveva finire, ossia con la soluzione piena, questo non è successo. Poi, cosa è successo? È scoppiato Calciopoli, Calciopoli. La fonte mediatica ha cominciato con i giornali a dire che la Juve ruba, 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 e si è scoppiato Calciopoli. Trenta telefonate, giustizia sportiva, manda in serie di una squadra, la smembra completamente, quella squadra che aveva fatto 5-6 finali di Champions League. Cosa vi devo dire? Niente. La Juventus sarà sempre soggettata da queste polemiche, di complotti, di cose dietro, eccetera, eccetera. Il problema è uno. Il problema è uno. Che purtroppo, qualunque cosa vogliate dire, la Juventus è la squadra più forte. E lo sarà sempre. Sempre. Qualunque cosa voi proviate a fare. E non riuscirete a fermare questa squadra, perché questa squadra più le polemiche aumentano, più le rafforzate. Ragazzi, lo spezzetto in due video, perché sennò diventa troppo lungo. Ci vediamo tra poco, ragazzi. Sempre forse a Juve. Ciao.